Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori sedie da campeggio. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento. E adesso passiamo alla top 3 delle migliori sedie da campeggio. Quindi cominciamo con la sedia da campeggio Sportnear. Cominciamo con le sedie da campeggio Sportnear. La cosa bella di questo modello è che non si ottiene solo una sedia ma due. Infatti questo set di due sedie da campeggio è molto pratico per le coppie. Il bello di queste sedie è la loro praticità. Infatti può essere piegato molto facilmente e trasportato grazie alla borsa di trasporto molto piccola che può essere facilmente attaccata a una borsa da viaggio o anche messa in una valigia. Una volta spiegato è molto comodo e ha una dimensione regolabile. C'è anche un portavivite che sia per il campeggio o per l'uso in spiaggia o in qualsiasi altra situazione questa sedia da viaggio sarà perfetta. Poi troviamo la sedia da viaggio UMI. Passiamo ad un eccellente modello di sedia da viaggio con questa bella sedia UMI. Come puoi vedere subito l'enorme vantaggio di questa sedia è che non è solo una sedia ma una sedia che si trasforma in una sdraio perché puoi stenderla. Questo è molto pratico da portare in spiaggia per esempio o semplicemente per rilassarsi in campeggio. Ovviamente questo rende la sedia un po' più grande da trasportare ma una volta piegata è riposta nella sua borsa. È alta solo 91 cm e spessa solo 16,5 cm. Quindi è ancora abbastanza facile da riporre e trasportare. La sedia è anche estremamente comoda e rilassante. Hai un portavicchieri e braccioli. E per finire ecco la sedia da viaggio svago. Concludiamo questa top con una sedia da viaggio di altissima qualità con questa bella sedia svago. Più di una semplice sedia questo è un set completo per sedersi sulla spiaggia, in campeggio o in qualsiasi altro luogo con il massimo comfort. Infatti abbiamo qui una sedia da viaggio che è facilmente da trasportare e da piegare e di spiegare. Il suo design è anche molto ben fatto e il suo colore verde è davvero bello. E il piccolo dettaglio che farà differenza con questo modello è l'ombrello integrato che ti permette di proteggerti dalle intemperie in diverse situazioni e soprattutto dal sole se porti questa sedia con te in spiaggia. Ecco grazie per aver seguito questa top 3. Spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.